Voi mi dovete fare incazzare però Perché? Perché cominci così? No ditemelo Cioè come vi permettete di mandarci le vostre postazioni con cable management non adeguati Cable management In realtà siamo contentissimi che ce le mandiate e arriviamo a Totmira Like e vi faccio un tutorial sul cable management fatto bene Ah questa è una bella idea perché lo voglio sapere pure io Ma prima di cominciare ragazzi vi segnaliamo un'offerta molto importante riguardo al nostro sponsor e voi sapete che è Level Up Esatto perché a parte il fatto che c'è un nuovo gusto che si chiama Nuclear Galaxy Normalmente i gusti nuovi sono arancia, limone, questa è galassia nucleare e vi garantisco che finora è il mio preferito Allora l'aspetto effettivamente è un po' radioattivo ma non il gusto No no il gusto è buono io tra l'altro ci metto sempre l'acqua frizzante per me non esiste Cioè che cosa vuol dire senza acqua frizzante? Per me l'acqua è solo frizzante Non solo c'è un nuovo gusto ma c'è anche un'offerta ovvero il 4x2 ne comprate due e ve ne portate a casa quattro Esatto prendi quattro paghi due Mi raccomando solo con il codice PLAYERINSIDE2 cioè PLAYERINSIDE2 alla fine tutto unito tutto attaccato al momento dell'acquisto Così si fa lo state vedendo adesso in sovraimpressione state vedendo anche tanti vari altri gusti che sono a disposizione Ce ne sono veramente per tutti a noi fa piacere pensare di collaborare con un'azienda A parte tedesca ma questo non è eh Però seria con prodotto fatto in Germania e soprattutto ragazzi ci hanno tenuto moltissimo A specificare che mi raccomando non al di sotto dei 16 anni e soltanto uno di questo al giorno perché sennò poi comincia a diventare uno di gente Si tratta pur sempre di una bevanda energetica Esatto che vi può dare un boost durante le vostre sessioni di partite online magari più intense e volete rimanere concentrati Oppure potete usarlo come pre-workout per la palestra fatelo chi ve lo vieta e c'è pochissimo zucchero solo 4 grammi per tutta questa quantità che non è tanta è una bustina Ho anche pre-workout per il cable management che adesso andiamo a vedere quindi link in descrizione Mi preparo Per level up preparati perché adesso ne vedremo delle belle delle belle perché io già le ho visti Raiden Quindi adesso vediamo un po' tu cosa ne pensi Cominciamo con Alessandro Cosenza che ci tiene a farci vedere subito No però però questa è la parte retrostante Ho capito Però figlio mio Allora aspetta un attimo che ti faccio vedere Che è? Ti volevo dire ci sono dei fascioni che vendono delle sacche delle cose Delle come si chiamano? Fasce Che servono proprio a coprire perché anche se tu Che vuol dire che se tu non lo vedi se hai messo sotto al tappeto allora va bene Anche dietro ci deve essere ordine Cioè tu devi sapere che dietro è ordinato Io sono a livello di cable management sono proprio un maniaco Però se lui ha fatto la foto ti fa vedere com'è davanti Oh Davanti mi fai un figurone ma con qualche remora Per esempio abbiamo quelle parti lì diciamo vicino al monitor che si potrebbero anche non vedere Se tu usi ste fascione risolvi Però mi piacciono i controller appesi al muro Però è molto Allora posso dire è molto 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 bella la postazione anche la sedia con i led che è uguale più o meno a questa Che non è una bella sedia però Come sedia fa cagare a livello di ergonomia a livello di comodità però almeno hai i led e quindi Alessandro Lillo una postazione pulita ordinata e soprattutto abbiamo finalmente un boxaro perché abbiamo la prima Xbox l'Xbox 360 non abbiamo Xbox One almeno non la sto vedendo ma abbiamo l'Xbox serie X con tutti i giochi Xbox sulla parte sinistra Ha anche l'Xbox serie X con quella specie di ventola con i led che io ho visto su Amazon forse la vorrei prendere e ha anche la postazione pc con il braccio che regge due monitor due monitor che saranno più o meno da 24 27 pollici e poi vabbè una questa è più una postazione ufficio che una postazione da gaming eh Se vogliamo non è che adesso i led te la fanno diventare automatico oggi perché sono stronzo Non lo so oggi un po' Particolarmente stronzo i led non te la fanno diventare postazione da gaming ma comunque diciamo che è una via di mezzo interessante se non altro apprezzo l'ordine anche qui il cable management Hai tutto nero e poi la stampante bianca e un pugno sul cazzo Alessandro Sidoti che salutiamo ci ha voluto dare la sua postazione da papà da papà che però non condivide la sua passione per i videogiochi con la moglie Quindi è costretto a ritagliarsi un angolino piccino picciò che è questo qua no no Questo qua perché lui ha un papà a 36 anni ha tre figli e quindi dice casa mia è piena di giocattoli come vedi Madonna stai rovinato E dice mentre gioco a The Last of Us ci sono le scene clou arriva il bambino che vuole il pannolino E' proprio la vita che non vorrei mai avere Vabbè ma dai ci mancherebbe però l'ho voluto inserire perché è giusto cioè anche un piccolo angolino può urlare passione per i videogiochi Allora ovviamente allora chi si offende per il mio sarcasmo è veramente Oggi Raiden è acido Andrea Falane ci fa vedere la sua piccola collezione di videogiochi anche retro Una postazione molto essenziale Però tu hai la PS2 come messo L'Xbox è proprio l'Xbox Allora c'è tutto tranne l'Xbox però lo schermo dice Xbox Però ha il nostro poster di Mortal Kombat autografato Vabbè ha vinto questo Autografato e poi Sony un altro autografo Vabbè ci siamo visti tante volte quindi Ma che bellezza Ah bellissimo Ma che bellezza Ma soprattutto lascia perdere a Raiden e Midna Gli autografi di Bud Spencer e Terence Hill Ma questa cosa fa? Chi cazzo sono Raiden e Midna? Bud Spencer e Terence Hill Antonio Di Zeo mi ha incuriosito per questa tv messa ad angolo E quella PlayStation messa alla sopra Come li fai a mettere i dischi nella PlayStation? Allora è la cosa meno pratica dell'universo Cioè devo dire l'effetto non è male È carino però devi metterti Vabbè Beh tra l'altro Il termosifone è dietro la tv Non lo so No 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 non si fa E tra l'altro sotto la PS5 Quando il calore sale Quindi poi va No Non è una Allora non è una buona postazione a livello pratico A livello ingegneristico proprio Però Come si a livello di impatto estetico Rende bene l'idea Quel calendario Perché? Fio mio quel calendario è messo là No Cioè Diego Caldarelli Ci fa vedere questa postazione molto ordinata Perché chiusa appare così Bene E ci siamo anche noi lì ovviamente Lui è scritto C'è pure l'Xbox serie X La PlayStation col caricatore del DualSense Che noi non troviamo da nessuna parte Esatto Assolutamente Non lo stiamo ancora trovando E aperta è così Quindi Normalmente non si tiene aperta No E consiglierei la tenda A me non dispiace la tenda tipo zebrata Perché voi dovete sapere io Oltre che di cable management e di postazioni A me piace proprio anche arredare L'arredamento è vero Però voi potreste dire Vabbè Raiden e tu hai una casa di merda Dite quello che volete Però qua vi state facendo giudicare Giusto? E quindi questo è Comunque bene invece Il cable management Devo dire che se la cava molto bene Vedi? Oh Allora Giulia e Flora Qui facciamo tanti auguri Perché si stanno per sposare Ci hanno mandato La loro gamers cave E tra l'altro si sono conosciute Con The Division 2 Giocando a un videogioco Non posso dire Guardate che bello Cioè Brave Esattamente Allora bello Perché avete fatto Del tetris La vostra vocazione di vita Poi mi piace tantissimo Quella trave Con l'effetto muro Anche se forse È una carta da parati Effetto muro Funko pop Molto bene Questa è la stessa ripresa Però frontale Sì E questa è un'altra piccola postazione Da questo lato Con l'Xbox Quella di Cyberpunk Non condivido E anche E anche la Playstation 4 Che abbiamo anche noi Di Death Stranding Allora non condivido Questa doppia postazione Nella stessa stanza Però magari è che giocate Entrambe Contemporaneamente Esatto Va bene Giustamente uno dice Oh gli spazi quelli Sono Raiden Che cazzo vuoi Lo capisco È che mi fa un po' specie Un televisione Per giocare in due Nella stessa stanza online Comunque è molto bella Avete ottimizzato Tantissimo gli spazi Ragazzi Non si tratta di avere case Chissà quanto grandi Si tratta di ottimizzare gli spazi Anche quando sono più piccoli Più ristretti Moseppe98 si candida Per il peggior Cable management Ma vabbè Tu mi vuoi male Raiden Non stare male E questa è la visuale Dell'altra postazione Ma l'hai fatta apposta Ma poi è tutto scon... Allora posso dire una cosa? Ma che so Quel cavo a terra Perché? Ma hai messo Vabbè Le maglie dell'Inter La passione è passione Lo capisco Però la bacheca Con quegli altri Cosa sono Mini Collezionabili Non so Ma la sedia Per terra La sedia che è? La sedia del... La sedia Hai tolto quella da gaming Per mettere quella? No Tu lo stai facendo apposta La scrivania Che è tipo aperta Tipo rotta No dai Sei un troll Con lo scotch Magari stiamo ridendo di lui Lui in questo momento È triste per questa cosa No lui ha scritto Nell'Omene Il mi candido Come peggiorno Allora possiamo prenderti Un po' per il culo Ma si scherza ovviamente Ma la miglior postazione Da gaming È quella di Vittorio Pastori Ottima Che dice Io condivido La mia postazione da gaming Chissà cosa ne penserai Del mio cable management Il cable management va bene Qui parliamo più che altro Di pipes management Cioè i tubi Che è buona Scomparsa devo dire I tappetini No Si si impregnano No si impuzzano No è vero Il tappetino Per la tua Cioè il tappetino Ci sta sotto il lavandino Quello ai piedi del lavandino Però poi il cesso Il bidet con il tappetino Ma vabbè comunque Non stiamo qua a discutere Lorella Grimaldi Ci manda la sua postazione È appassionata di The Wish Xbox Quindi principalmente Xbox E Switch No No c'è Xbox E lettore DVD LG Pluray Esatto E poi Switch C'è Switch C'è Switch con Fuffi Switch Lite Bene Ben ordinata Pulita con la cassa a sinistra La cassa a destra Di un'altra marca Diversa Forse quello è il woofer Il subwoofer Insomma Pretendo che cogliate Il tono sarcastico Di questa rubrica Perché si mette sì qui A dire Oh che bello Il disegnino di Gianni 12 anni Da Ravenna Che bello E' una cagata Io non ho mai sopportato Quei programmi Che fanno così Per cui Pane al pane Vino al vino Cable management Buono Sennò va a fan Ovviamente hanno vinto Giulio e Flora L'hai deciso tu L'ho deciso io No no sono d'accordo Giulio e Flora Stavolta erano in ballottaggio Con un altro Che ho visto prima Però devo dire Che a me Questa disposizione Così Tutto riempito Fatto bene E soprattutto Si sono Si sono Diciamo Smenate Per poter riempire tutto In maniera tale Che c'entrasse Effettivamente Tutto così a tappa A me piace l'idea Della Gamer Cave Quindi Mi è piaciuto tanto E' vero Bravissime Bravissimi tutti ragazzi Continuate a mandarci Le vostre postazioni Se non le abbiamo ancora pubblicato Non le mordete Ce ne mandate in tantissimi Quindi abbiate pazienza Ragazzi Dobbiamo fare una cernita Ci mancherebbe Ma noi vi ringraziamo come sempre Ci vediamo alla prossima E vi ricordiamo ragazzi Level up Scodice Conto Scodice Conto Player in 6 2 Il 4x2 Soltanto per questi giorni Quindi mi raccomando Se vi vedete Level up Quella vostra postazione è migliore Potrebbe non succedere Ciao Ciao